Sono 12 e li conoscete molto bene, ma è arrivato il momento di scoprire tutto dei loro segni zodiacali. Antonio Capitani conduce uno show sull'astrologia applicata ai volti più amati della tv. Tema Natale, affinità di coppie e tutti i segreti per conoscerli da vicino. Se vi chiedete che cosa si nasconde tra le stelle di Real Time, non perdete Astro Love da sabato 26 ottobre alle 19.10 su Real Time. Grazie a tutti.